Colonnese, Garavini, Pagano, Carinelli, Chi altro non riesce a votare? Curro, Moscat, Raga, Chi altro? Mi pare che stiano votando tutti. Dichiaro chiusa la votazione. 306 favorevoli, 16 contrari, la Camera approva. Andiamo all'emendamento 2.5 Invernizzi, su cui dobbiamo chiedere i pareri. No, aspetta un attimo, devo chiedere un attimo i pareri, poi la faccio intervenire. I pareri al relatore sugli emendamenti riferiti all'articolo 2. Parere contrario. Parere contrario su tutti, le faccio presente che i primi quattro non sono segnalati. Adesso il Governo. Contrario a tutti gli emendamenti, grazie Presidente. La ringrazio. Quindi 2.5 Invernizzi, chiedo di intervenire Invernizzi. Prego. Sì, grazie Presidente. Con questo emendamento si entra, invece, proprio nel merito della proposta di legge che prevede, che vengono organizzate dalle istituzioni della Repubblica, all'interno di tutte le scuole di ogni ordine e grado, proprio in concomitanza con il giorno della memoria, che sarebbe il 3 ottobre, tutta una serie di incontri e sensibilizzazioni, destinato ovviamente ai nostri figli ed ovviamente agli alunni, anche in coordinamento con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore, che sono associazioni e organismi che... Grazie. Grazie.